Eccoci e bentornati sul mio canale! Allora mi sto dirigendo alla locanda perché devo parlare con Priscilla così gli dico com'è andata con Junior E poi devo andare a cercare lo scrigno segreto e così almeno terminiamo la storia Dove sta Priscilla? Sta sopra, sta al piano sopra, andiamo sopra va? Ok, arrivo, gentil donzella, sto arrivando Perfetto, eccoci qua Sotto mi dice, scusami, ma... sotto, ma prima sopra, ma sotto E qua allora sta Che cacchio distanze, quante volte ci stanno? Eccola Gerold! Listen, I tracked down Horson Junior Yes? And? Did you learn something? Yeah, Ciri and Dandelion set out to steal Siggy Reuven's treasure for Horson He promised to find someone who'd fix Ciri's phylactery in exchange I cannot believe she parleyed with the bastard Why, it's widely known how anybody who packs with YNs Ciri was desperate, but you're right, wasn't the best idea Horson ended up wounding Ciri just after he'd tortured Doodoo Doodoo? How is Doodoo related to this in any way? Seems Dandelion got him involved to help Ciri Luckily Doodoo managed to escape, probably hiding somewhere now What of Wily? He's dead Take care now Perfetto, ah, c'è la data completata nonostante non abbiamo preso il... lo scrigno Vabbè, meglio così Allora, ci resta Circo una diretta a Skellige Il tesoro del conte Reuven Allora, interroga Rune sul comparsa di Dandelion senza destare i sospetti Quando sei pronto ad aiutarlo tornate a Diuski, segui Diuski Perché questo l'ho suggerito, 16 Questo è per tornare nuovamente a quelle principali Io andrei a fare il tesoro che così almeno è il continuo di questa Che almeno non ci crea problemi E poi ci andiamo a fare quella là che ci richiede pure un livello di esperienza maggiore Quindi direi andare a fare questa qua Anche perché siamo qua ormai nel... al paese è inutile spostarci e andare a fare un altro paese Finiamo quelle che abbiamo qua E via Così vediamo se poi quella di Ciri pure c'è qualcosa da fare qui Oppure no E ce ne possiamo andare poi a Skellige Allora, ritorniamo nei bagni Se non ricordo male Nei bagni pubblici Ormai la strada me la sono parata a memoria Allora, intanto gli diciamo sicuramente Questa cosa qui legata al Junior E poi vediamo un po' che dobbiamo fare per aiutarlo Ah, quella cosa nel bagno Quella scala che ci portava sotto Perfetto, ok, ok Be so kind as to follow me Ok, perché prima ce l'aveva data come non principale Invece adesso ce l'ha data come principale Quindi andiamocelo a fare E te pareva che la scala non me la piava Il tesoro del conte Ruben Quello che stanno cercando di prendere Ciri con Dandelion Oh Bart, not again Bart Bart Bart, stop that, now Bart, mad Bart, make Ziggy lose, girlfriend Beating your head against the wall won't change that Bart, hurt Bart, but less thinky Bart, less thinky Bart, sad less Don't seem to have trouble communicating with the troll Why'd you bring me down here? Take note of that hole We'll come back to it later I see that door Vault behind it Until recently filled with Novograd crowns and countless other valuables Bart, guard Then boom Charf and go Translating into common Someone fucking made up with nearly twenty tons of my gold And all the lighter stuff And you will help me get it back Fine I'll help you You're not exactly bursting with enthusiasm Witcher mutations They strip us of emotion I'd be jumping for joy otherwise Alright Ought to look around But first some questions On all ears Take it the thieves got in through the hole behind you You're a regular fucking master sleuth Any other brilliant deductions you want confirmed? The year maybe? Bloody name of Redania's king? No But I am wondering for instance how that hole got there Hole no Boom Hole Bad look won't go Bad look no Only sleep Bad shrooms Head falls Boom Can you elaborate? Boom Big Dislike I'll elaborate Explosion Big enough to blow that fucking hole in the wall Separating the vault from the sewers I've gotten pretty good at communicating with this troll Lots of prior experience Worked with idiots me whole life Bad mushrooms? What's that about? Pops mold The spores are highly toxic One whiff and you're dead Unless you're a troll that is Yes Bad Bad troll Not talking to you dimwit Where was I? Ah Mold spores They cover the walls of the sewers Other side of the vault Actually thought it was a good thing You know A bit of extra protection Thieves found a way through it Bart You see them? Bart Through hole Once see Boom Got what Breathe Shroom Sleep Go bad troll Bad troll Now now Stiff upper lip Try to track down the thief yourself? Of course Hide this Lommock's funce Thick enough not to ask questions We knocked back some pops antidote And entered the sewers Soon after Mi sono tornato solo. Cosa è successo? Il ragazzo è iniziato a spettare qualcosa di vero. Cioè, spettare con tanto massimo che la città si è riuscita. Mi ha detto, Fons, stop! Tu sei nella presenza di un conto. Beh, un conto del conto, ma ancora. E poi si è riuscita. L'ultima è venuta la parte dell'antidota. Ha perduto la protezione. Ho cercato di riuscire. Poi ho sentito una bubola. Alcune qualcosa si è riuscita dal luogo. Mi ha valuto la vita dei miei, Ma mi ha valuto la mia. Ma mi ha valuto la mia. Mi ha valuto il conto, e si è riuscita come giro. Perciò guardare le sezioni. Hai ancora di questo antidote di pop? Abbiamo alcuni viali. Abbiamo la formula, anche. Un'escalante, per sincero. Ma sarà salvare la tua vita. Qui. Grazie. Hai dovuto ringraziare a me, letteralmente. Non è buono per me, se fissi. Scusate. Scusate, sarò qui se mi bisogna. Il punto di questo luogo pulito mi ha dato un ulcero. Buona luck a te. Use Sensi da Witcher per esaminare il luogo dell'intuizione. Allora. Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa. Antidoto per muffe volatili. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. La parte. Ma come questi sono? Ma con il caso non c'è? Y' Ми chiamati che scurini... L'articolo mi sono. Ma sono pura che il dare. Chiamati che ci sono. D'unore. E' sicuramente. Ma non prende le cose qua sotto Ok E di qua Oh Yeah Aia A posto Procediamo Vediamoci al prima possibile da qua Che cacchio Dovrebbe un po' l'antidoto Che c'era là? C'era qualcosa Aspetta C'era qualcosa Che dice te Che c'è qualcosa di vicino Andiamo a vedere Vai Sensi da Witcher Vediamo se trovano qualcosa Abbiamo ancora 4 minuti di antidoto Qua chiuso Vedete se c'era qualcosa Invece qua sopra niente Solo Solo casse Quindi sta qualcosa per forza giù Vediamo Che è qua? Esamina No raccogli Se raccoglio questo qua Aspetta Fatemi fare una cosa che C'ho paura che mi rifà quella cosa Del problema Fatemi salvare Ok Perfetto Allora Vediamo un po' Ecco qua Ho trovato Allora Ritorniamo in bagni pubblici Tanto siamo venuti Non me lo ricordo Ah Qua è uscita Perfetto Ah l'antito dura ancora per 3 minuti Quindi c'è basta Benissimo Quindi ritorniamo qua su dal compare E leviamoci da qua sotto Che non mi piace per niente Qua Orco cane qua Che schifo Che schifo Che schifo raga Tutti uccisi Questi per fortuna Benissimo Namu cenne Namu cenne Che non mi s'ha rotto Ti sta qua sotto alle fogne Ok Ecco il compare Do sta Sta su sta Do cacchio sta 21 Dovremo torna sopra Torna ai bagni pubblici Quindi dobbiamo ritornare sopra Secondo Sì Ecco la scala Mamma mia Bart è comunque enorme Mette proprio Preoccupazione Il compare Oh dai Benissimo E torniamo Da diustra Vediamo un po' Li riassumiamo un attimo tutto Quello che abbiamo scoperto Che non è male Come lo che abbiamo trovato Che stanno pure io Scusa C'è stava una porta qua Ok Questa qui è Va Questa è un po' Tu hai un minuto? Si Che vuoi? Si Ho hai seguito Ho scoperto tutti ogni micchio dei luci Di la vostra Nasi Sembra Ti z� Prendere qualcosa Di Non Ha 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 Fa Per me sembra che una bomba l'aria aperta l'aria. Guarda. La bomba di una cilindra gara, probabilmente. Covered in rumi. Interessante. Quali idea di quello che ha contenuto? Recognizzato alcuni ingredienti da loro senti. L'olio e l'olio. L'olio? Geralt, non ho in modo per gesti. Non lo so. Non lo so. Lo so che ho trovato. La bomba contiene suga. Pensiamo. Suga reagirà violentamente con acido sulfuric, ma non così violentamente per causare un'esplosione. Non sapevi che ero in alchimia? Dabbledi in l'alchimia un po' mentre all'Oxenfurt Academy. Ma non è il momento per rimanere. Hai dovuto trovare il mio trascimento, non scrivere la mia biblioteca. C'è un'esplosione. C'è un'esplosione. C'è un'esplosione. C'è un'esplosione. La bomba si è fuori dentro di un piper di piazza, imbedeo nella piazza. Ma la grata alla fine della piazza era in place quando il blasto è successo. C'è un'esplosione. La bomba si è trovato il piper di piazza dentro del lavabo. C'è un'esplosione. Può che si è fuori qualcosa di questo. Perpetrator iniziò a scuola di un'esplosione, poi si è fuori la bomba sotto la grata. La bomba si è fuori con un ruino, si è fuori per rimanere, si è fuori per rimanere, e, per chiedere a Bart, una grande boom. La bomba di piazza è un'esplosione, solo bisogna sapere quali piazza si è collegato. Sì. Appen mantiene un'esplosione di guesti, dovrebbe essere capito di noi chi ha usato l'esplosione il giorno del break-in. Tu non hai fatto male. Mi sento orgullo di essere accogliato. Oh, questo famoso sarcasm. Mi sento. Sì? E la Peppa. Ok, tu inspeggi le piazze a destra, io prendo le piazze a destra. rilassati se hai trovato qualcosa. Ok, allora. Vediamo un po' se troviamo... livello undici, molto bene. Poi ci andiamo a sparare subito il punto, eh. qua. Perfetto. Ah, a proposito, ma ci siamo? Facciamolo subito. Personaggio. Ci andiamo a fare l'ultimo potenziamento degli attacchi rapidi. Perfetto. 5 su 5. Così gli attacchi rapidi ce li abbiamo a posto. Allora, vediamo qua cosa c'è. Qua niente. Quindi c'è qualcosa qua dove abbiamo trovato l'olio. C'è sicuramente qualche altra cosettina. Andiamo un po'. Sali un po'. Sopra. Che sopra dice? Vicino invece, mo'. Allora, allora. Chi c'è sfuggere, gah? Come dice qua? Quello l'abbiamo visto. Eccolo. Forse eccolo. Questo è qua. Aspetta, però non me lo prende. Questo è qua. Silvella. Mi piace il cilindro che ho trovato nel suor. Dijkstra, vieni qui. C'è qualcosa? Si. Bomb part. Appen. Drain pool 4. And bring me the guestbook. Chop chop. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Appen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertolt Heinz, town councilman. Josef Schweik, Brewer. And Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel. Who's that? Who was that, you mean? Old Cook's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead. I've not heard. Not surprising. The Honorable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie. So the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict Townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. Ok, allora dobbiamo raggiungere la casa del Magravio Henkel. Ok, allora ci fermiamo qui, così nel prossimo video continuiamo la missione Il Tesoro del Conte Reuven. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale. Ok. Ok.